Riccobelli e Lorenzini, grandissima rimonta, una bella partita. Eh sì, stavamo perdendo 3-0 e con la forza della squadra... Poi è scattato qualcosa nel secondo tempo... Sì, sì, abbiamo merito il mister Emanuele Riccobelli che... Primo tempo, i primi dieci minuti, inguardavoli proprio, irriconoscivili. Merito anche agli avversari, ha fatto girare a palla, gol. Noi purtroppo errori tecnici, confusione. Sembrava che non c'era... Sì, non c'era la partita. Per fortuna il gol di Alex, ha riaperto i giochi. Esatto, quel tiro diagonale. Quel tiro in missile fuori aria. Poi dopo abbiamo caricato testa bassa. Secondo tempo, testa bassa proprio. Testa bassa e pedalare. Rimonta eccezionale. Com'è questo campionato? Stava andando bene? Sì, sì. Siamo in una squadra al debutto. Sì, sì, è il debutto, è il primo anno, però ci conosciamo da diverso tempo. Dopo qualcuno, siamo insieme, l'amicizia è quello che conta. Esatto. L'obiettivo stagionale qual era? All'inizio era quello lì, partecipare, divertirsi, ma adesso le ultime cinque partite abbiamo fatto quattro vittorie. Inizia a salire, ragazzi. Proveremo ad arrivare quinto o quarto. E com'è nata questa squadra? Questa partecipazione? L'idea è partita da noi amici, una sera d'estate. Avevano già fatto due o tre anni fa un campionato. Poi quest'anno siamo messi insieme e abbiamo deciso di fare questa squadra. Va bene, grazie, allora buon proseguio. Grazie a lei. Grazie, ciao.